non vi aspettavate di vedermi pedalare vero qualcuno sui pattini altri sui pedali in qualche sport siamo tutti dilettanti ciò che conta è la passione suzuki dona 40 mila euro alle associazioni sportive dilettantistiche di sport ghiaccio calcio canotaggio ciclismo e motoclub sei tu a decidere chi aiutare basta un clic su suzuki sport.it dobbiamo continuare l'allenamento andiamo ora devo pedalare e voi andate su suzuki sport.it